La Finlandia ha annunciato la chiusura di quattro valichi di frontiera sud-orientali al confine con la Russia a partire dalla mezzanotte del 17 novembre. I varchi in questione segnano anche il confine esterno dell'Unione Europea. Questa è la risposta di Helsinki al crescente numero di richiedenti asilo senza documenti che secondo le autorità finlandesi sarebbero stati lasciati passare dalla Russia. Secondo quanto dichiarato dal primo ministro in una conferenza stampa, negli ultimi giorni sono arrivate decine di migranti, per lo più provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa. Il governo presume che siano stati aiutati dalle autorità russe ad attraversare la zona di confine come ritorzione per la decisione della Finlandia di aderire alla NATO. La portavoce del ministero degli esteri russo ha dichiarato che queste accuse sono infondate, aggiungendo che Mosca non è obbligata a controllare i migranti.